È stata catturata con la trappola tubo e diciamo che non era scontato riuscire a catturarla in così poco tempo e come voi ben sapete la nostra intenzione era di fare prima con l'abbattimento e quindi non era scontato riuscire a farlo in così poco tempo e vanno fatti complimenti alle nostre strutture, al corpo forestale che con questa azione veloce e importante hanno ottenuto questo importante risultato. Questo anche a risposta di tante critiche che abbiamo sentito infondate in questi giorni sulle capacità del nostro sistema. Il mio problema è il destino del progetto, non il destino dell'orsa. Per noi il destino dell'orsa è già segnato, quello che dobbiamo salvaguardare invece è il progetto. Se vogliamo salvaguardare il progetto, e lo dico ai tanti benpensanti che ci sono fuori dal Trentino e che ogni giorno ci dispensano molti consigli e ci dicono cosa dobbiamo fare e ci dicono come ci dobbiamo comportare, tante belle cose, bene, se avete a cuore il progetto Life Ursus diteci e organizzateci, e noi lavoreremo insieme a voi, una modalità di spostamento di 70 esemplari che sono in eccesso. Così il progetto andrà avanti, altrimenti il progetto fallirà, perché come ci sono stati attacchi a persone negli ultimi anni e negli ultimi mesi e purtroppo una persona è deceduta, con questi numeri ce ne saranno sicuramente degli altri e lì il progetto fallirà. Io adesso mi devo limitare al TAR, i ricorsi al Consiglio di Stato ci sono sempre stati, quindi in qualche modo ci li attendiamo, però noi dobbiamo al momento limitarci al ricorso al TAR e alla data dell'11 maggio, che al TAR abbiamo chiesto di anticipare perché ieri abbiamo fornito tutti i documenti che il TAR ci ha richiesto. Dobbiamo tenerlo buono il progetto, anche perché ce l'abbiamo in casa, ormai non è che possiamo fare altrimenti, e quindi se non si sono dispersi finora nelle regioni a noi vicine, sia quelle italiane che negli altri paesi europei, io non sto qui a sindacare il perché e non, francamente in questa fase mi interessa, non ne so le motivazioni diciamo, però è chiaro che il Ministero, perché noi non abbiamo le capacità diplomatiche per poter mettere in atto un percorso di questo tipo, l'abbiamo fatto autonomamente per due orsi, con un accordo con l'Ungheria e uno con la Germania, ma per un numero così elevato attendiamo ovviamente una collaborazione con i Ministeri competenti e questo è quello che occorre ottenere.